La Pro Sesto, che non ha ancora vinto in campionato, per ora due punti in classifica. L'ultima partita ha ottenuto un buon pareggio contro la Feralpi Salò in trasferta, con un gol all'ultimo minuto proprio di Capogna. La squadra, i giocatori principali, sono in difesa, abbiamo Cristian Maldini, che è uno dei figli di Paolo Maldini, che gioca come difensore destro. Come difesa, invece, nel reparto centrale abbiamo Caverzasi, che è un giocatore storico della Pro Sesto, è già la terza stagione con la maglia della squadra milanese, e è colui che guida un po' il reparto difensivo. In centrocampo abbiamo Gualdi, che è un centrocampista, anche lui è da tanti anni alla Pro Sesto, e la sua caratteristica è che si inserisce. Un centrocampista di inserimento, infatti, l'anno scorso ha fatto sette gol da centrocampista, che non sono pochi. Mentre nel reparto d'attacco dovrebbe giocare, quasi sicuramente, Capogna, che è un giocatore che noi conosciamo, l'anno scorso ha fatto dieci gol nell'Ecco in Serie C, quest'anno è stato preso alla Pro Sesto, inizialmente non ha giocato molto, ma adesso sta guadagnando il posto da titolare. E accanto a lui dovrebbe giocare Buongiorno, che è un giocatore che l'anno scorso nella Lavagnese in Serie D ha fatto 15 reti, è stato un pezzo pregiato del mercato di Serie D ed è stato acquistato dalla Pro Sesto. Sta soffrendo un po' l'impatto con la categoria, però. È una formazione arcigna, un po' di picchiatori, un po', ci ricordiamo anche l'anno scorso che erano picchiatori, e sarà secondo me importante riuscire a sbloccare la gara, anche con un risultato, con un minimo scarto.